Perchè? Stai ridendo? Non è possibile. Vogliono che andiamo a cercarli. Queste sono immagini di siti archeologici su tutta la Terra. Antiche civiltà che non avevano alcun contatto tra di loro. Tuttavia, i pittogrammi sono tutti uguali. Mesopotamia, gli Aztechi, dipinti nelle caverne della Francia. Una mappa delle stelle? No, non è una mappa. È un invito. Prometheus è atterrato. Quanto andresti lontano per avere risposte? Fino a che punto arriveresti? Prometheus, lo stai vedendo? Senti che obbligo egizio? Sì, lo sento, buon signore. Oh mio Dio. Era vero. Mamma mia, è tu! Ma io restai quella grandissima Maiana. Ma quale grandissima? Ma quale grandissima? Mia è nana, perché più maneggevo e la prendi... E per tutto, te la siete presa pure nana. Beh, ce l'hai sento già il cuore che mi lascia con la terra. Vieni, che abbiamo fatto in culo a donna. Sotto! Uccidete tutto! Avete sentito? Se non lo fermate, non potremo più tornare indietro. Vieni, 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 vieni.